Banca Popolare di Sondrio prenderà parte a Belt and Road Exhibition 2021 Digital Edition, il più grande evento italiano dedicato ai rapporti commerciali fra Italia e Cina dal 12 al 15 aprile. Previsti incontri online tra espositori e visitatori tramite forum, workshops e sali virtuali per colloqui B2B. Gli ambiti sono quelli del turismo in tutte le sue declinazioni, natura, enogastronomia, sport e trasporti, lifestyle, design, moda, digitale, tecnologia, benessere, sostenibilità, innovazione, cultura, arte, musica, territorio e food, con attenzione ai siti UNESCO. Banca Popolare di Sondrio, tramite il proprio servizio internazionale, da anni intrattiene rapporti con la Cina e i mercati asiatici di Mitrofi, grazie anche al supporto dell'Ufficio della Presentanza di Shanghai, di proprietà della partecipata Sintesi 2000. Il personale di BPS interagirà con i visitatori interessati attraverso uno stand virtuale istituzionale. La visita alla manifestazione da parte di aziende e soggetti privati è gratuita, previa registrazione dalla piattaforma ufficiale HTTPS.